Se anche voi giocate spesso a Red Dead Online su console PS4 potrete contattarmi su uno dei miei social, sul mio ID PSN oppure nei commenti sotto al video per richiedere la richiesta di amicizia su PS4 e poter giocare insieme a Red Dead Online. Ciao a tutti ragazzi, sono Orcuverde e in questo video volevo informarvi riguardo il nuovo evento che Rockstar Games ha rilasciato per questa settimana su Red Dead Online. Prima di iniziare velocemente vi invito tutti quanti a lasciare un bel pollicione in su, commentare e condividere il video. Grazie davvero a chi farà queste tre cose per supportare me e il canale. E poi se non avete ancora visto vi invito ad andare a guardare il video di tutti i contenuti e miglioramenti dell'aggiornamento di Red Dead Online rilasciato martedì che ho caricato ieri sul canale. E possiamo iniziare subito! Questo nuovo evento terminerà martedì prossimo, ovvero martedì 21 maggio. Come bonus in questo evento c'è il 25% di punti esperienza in più sulle missioni di la terra delle opportunità, sulle missioni free rom, sulle modalità rete dei conti, su gare ed eventi free rom. Poi c'è il bonus del 25% di dollari e oro in più nei forzieri per cui se avete una caccia al tesoro ancora non fatta vi consiglio di farla in uno dei giorni di questa settimana prima che termini questo evento così da guadagnare più dollari e oro. Poi tutti i giocatori che effettuano l'accesso su Red Dead Online questa settimana riceveranno come regalo da Rockstar Games 15 lingotti d'oro che sono tantissimi. In più tutti i possessori della Ultimate Edition riceveranno anche 100 dollari e le motte gola tagliata in regalo. Davvero ottimi bonus e regali da Rockstar Games nell'evento di Red Dead Online di questa settimana. Rockstar Games ha già confermato quali saranno i prossimi contenuti ad essere rilasciati su Red Dead Online a partire dal prossimo martedì di cui vi ho informato sempre nel video che ho caricato ieri di nuovi contenuti e miglioramenti dell'aggiornamento di Red Dead Online. Se siete interessati andatelo a guardare. Lascerò il link di quel video nella descrizione di questo video. Quindi ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando lasciate un bel pollice in su, commentate e condividete. Se siete nuovi iscrivetevi al canale e poi seguitemi sui social. Trovate tutti i link nella descrizione. E da Rockover da TutorCineo un prossimo video bella.